Non solo il film, non solo le più famose serie tv, serie tv italiane, internazionali, potete trovare veramente centinaia, centinaia, centinaia di titoli, ma non solo, se siete interessati ad Infinity, basta recarsi o allo stand Infinity qui sulla sinistra del palco, oppure allo spazio, al desto di Cosplay City, ci sono questi vignetti, avete due mesi a solo 4,99€ anziché 7,99€. Mettendo il title, appunto, Cartoon Mix, momento a registrazione. Assolutamente, basta andare sul sito Infinity TV.